Dai servizi sociali al sostegno per i rifugiati in arrivo dall'Ucraina, tante le attività svolte dall'Ordine di Malta in Ungheria, temi questi al centro della visita del presidente dell'Ungheria, Tamas Shuljok, con il gran maestro del sovrano militare Ordine di Malta, Fred John Dunlap, che lo ha ricevuto al Palazzo Magistrale di Roma. Nel corso dell'incontro, il presidente ungherese ha espresso apprezzamento per l'opera che l'Ordine di Malta svolge in oltre 120 paesi del mondo e in particolare in Ungheria, dove il servizio di assistenza ungherese dell'Ordine è la più grande istituzione sociale, supportando in media 13.000 persone al giorno attraverso 150 istituti. Inoltre, il servizio è particolarmente attivo nel far fronte alla crisi dei rifugiati ucraini, fornando assistenza a più di 52.000 profughi. Rivolgendosi al presidente Shuljok, il gran maestro Dunlap ha affermato che l'Associazione Ungherese dell'Ordine è attiva dal 1928 e sono orgoglioso di dire che la gamma di attività umanitarie portate avanti dal nostro servizio è davvero impressionante. Quindi ha espresso profonda gratitudine per il generoso sostegno che le autorità ungheresi offrono costantemente alla nostra associazione e al suo corpo di soccorso. Il presidente Shuljok ha voluto nel suo discorso sottolineare che l'intesa e l'eccellente cooperazione tra Ungheria e Ordine di Malta hanno radici molto antiche. L'Ordine, ha detto ancora il presidente, è un partner affidabile, in particolare nel servizio ai bisognosi. Nel corso degli anni è rimasto fedele alla sua missione. L'incontro tra i due leader ha offerto anche l'occasione per riaffermare i condivisi valori cristiani, la comune preoccupazione per l'aumento dei conflitti armati e l'urgente necessità di un approccio multilaterale. Ad accompagnare il presidente Shuljok, entrato in carica lo scorso 5 marzo, la first lady Shujana Nagy, che ha potuto visitare la biblioteca del Palazzo Magistrale contenente volumi risalenti al XIX secolo.